Come stai? Bene? Sì? Va bene, mi fa piacere eh? Oggi, Giao è su YouTube, chi pubblica i video su YouTube in modo assiduo è preoccupato sempre per quanto riguarda il concetto delle visualizzazioni pensare sempre alle visualizzazioni porta comunque a un morire a livello proprio di artistico di coloro che fanno i video su YouTube perché stai sempre là a guardare quante visualizzazioni ha fatto il video e quante non è fatta. Se poi ci ricordiamo i nostri inizi insomma almeno per quanto mi riguarda io facevo 30 visite, ero contento. Non è che me ne faccio 2.000 però 30.000. Quando ne facevo 30 ho fatto 30 visite insomma ero contento di quelle mie 30 visite. Poi pian piano i numeri salgono e se ne fai 30 un'altra volta ti senti che cazzo sono solo 30, solo 100, solo 200, solo 500. E poi i numeri su YouTube, con l'avvento di internet, con l'avvento di internet, i numeri sono diventati nulla no? Se uno pensa oh solo mille persone hanno guardato i video, solo 500. Eh ma provate voi a mettere 500 persone davanti a voi, vedete quando sono tante, si capisce che sono tantissime. Quindi bisognerebbe un attimino fare i video e basta. E questo ti rende molto più libero che il momento in cui una persona riesce a mettere un video, indipendentemente dal numero di visualizzazioni che otterravo un video, è libero, perché fa ciò che vuole. Mentre spesso si fanno, l'ho fatto anche io, cose, cioè cose insomma, si fanno dei video per cercare di prendere una di più gente possibile. Quindi si fanno delle cose, anche se a te magari non piacciono, per cercare di crescere un po', perché chi fa video comunque, è nutro che ci nascondiamo, insomma, chi fa video al piacere di vedere i suoi video che vengono visti da molte persone. Quindi se a delle persone piacciono una determinata cosa, tu cerchi di accontentarle facendo quella cosa. Ma non ti accorgi che accontentando loro, sono magnato un uovo a volare stasera, accontentando loro non accontenti te. E nel momento in cui non accontenti te, piano piano vedi che non accontenterai nemmeno più loro. Quindi bisognerebbe fare sti video un po' più alla leggera, infatti mi prenderò un po' meno sul serio, così come stasera, un po', insomma, ritornare un po' alle vecchie chiacchierate, mi mancano un po' queste cose così, delle solide cose un po' più costruite, più... Bisogna stare, insomma, più alla leggera, ecco, in questo senso. Fare sicuramente una cosa che a te piace realmente. Poi piace, non piace, questo non lo so. Però sicuramente, ripeto, anche se ai vostri video hanno 200 visite, 150, 300... Sono tante, sono tante persone. Cioè, sono tante persone. Non è che sono poche. Dei sono come persone, sono persone quelle che non sono numeri. Alla prossima. Quasi quasi vi sparo un live. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.